Seconda rapina nel giro di dieci giorni al sottopassaggio pedonale dei Cappuccini. Ieri, domenica 27 marzo, è capitato ad una donna di 60 anni a spasso col marito. La coppia è stata avvicinata da un gruppo di giovanissimi che, senza proferire parola, hanno aggredito la donna strappandole un ciondolo d'oro dal collo. Il tutto alle 4 di pomeriggio, alla luce del sole, a due passi da una chiesa, dalla stazione, dal centro storico. Davvero inaccettabile. E dire che appena dieci giorni prima un anziano era stato derubato del portafogli attraversando lo stesso sottopasso. Nel giro di tre giorni la polizia ha individuato i responsabili in quattro minorenni nordafricani senza fissa dimora che stavano alloggiando, si fa per dire, in una casa abbandonata non lontano dall'istituto alberghiero. Già, è chiaro perché la problematica di microcriminalità in zona stazione monumento della resistenza Emiralfiore è soprattutto una problematica sociale dove gli episodi si ripetono nonostante l'abbondante videosorveglianza, gli altrettanto frequenti controlli di polizia e il fatto che gli stessi episodi difficilmente restano impuniti. Problematica che da mesi si è allargata anche in più parti del centro storico. Ci siamo spesso occupati di Galleria Roma, di Piazza Olivieri di fronte al Conservatorio. Ora, nel weekend, si è acceso un riflettore importante anche su Piazzale Primo Maggio. Il comitato Riqualifichiamo Pesaro ha infatti indetto una raccolta firme contro il degrado in cui versa il piazzale. Si chiedono telecamere e controlli per una zona che sta prendendo la piega di quelle che vi abbiamo già citato, dove gruppi di persone poco raccomandabili si radunano con episodi di bracchezza molesta fin dalle prime ore del mattino. Il tutto davanti alla parrocchia di Sant'Agostino.